Pullman del Milan Ecco che sta creando un po' l'uscita, il panico Pullman del Milan, vedete lì, sta uscendo La polizia ci ha blocchiato Vediamo chi passa, eccolo, Emirati Arabi, Pullman del Milan Vediamo a bordo chi c'è, se riusciamo a vedere qualcuno No, eccolo qua, comunque E ci siamo all'hotel Parco dei Principi Eccolo lì il Pullman, possiamo anche seguirlo per un pezzo Andiamo L'hotel Parco dei Principi Seguiamo il Pullman del Milan, vediamo dove va Eccolo laggiù Non è che stiamo seguendo il Pullman del Milan appositamente Però insomma ci siamo trovati E probabilmente insomma Sta facendo la nostra stessa strada Ha girato In direzione stadio E noi indietro Eccolo là Cercheremo di affiancarlo per gioco Eccoci qui Ecco qua il Pullman del Milan, molto bello Vedete Emirates Emirates, eccolo qui Ovviamente non si vede nulla Vedri schermati E lo salutiamo Eccolo, forza Milan Per i tifosi farà piacere Ci troviamo a Roma Zona Parioli Ecco che accendono anche le... E lo vediamo al passaggio Altro passaggio Pullman del Milan A Roma Eccolo Eccolo qua Eccolo Molto affascinante Pullman Con tutti gli scudetti Vedete Vedri scurati Non si vede assolutamente nulla Rosso-nero Con una scorta E qualche ragazzo che lo segue Emirates è lo sponsor L'Adidas E ci troviamo Traffico bloccato Ecco Si è bloccato il traffico a Roma Per far passare Vedete Guardate che traffico Per far passare Il Pullman Del Milan Vicino Villa Borghese Qui sulla destra E siamo nel quartiere Diciamo Vedete Guardate che fila Oggi è il 19 dicembre Ci sono le spese Dei regali di Natale Quindi il traffico Proprio alle stelle Siamo a venerdì Quindi l'ultimo venerdì Prima di Natale No, si Il penultimo Diciamo Praticamente oggi è l'ultimo giorno Uno degli ultimi giorni utili Per fare gli acquisti Quindi traffico Pullman del Milan A Roma Uscita dal Parco Hotel Dei Principi 19 dicembre Ore 19.30 Chiudiamo il collegamento Traffico bloccato Dalla polizia Per farlo passare